Thomas, mostra la cassetta di Silvio Magnano. Banana. Eh? Banana. Bravo. Quindi tra 50 minuti siamo arrivati. No. Alle gallerie. Dopo quanto c'è ancora? Sarà a 2,5 o 3. I peni non slanda. Sì, facciamoci una foto. Tommaso, ti capisci? Facciamoci una foto. Anche tutti c'è il Tommaso. Fai una foto. Ci vuol 50 minuti da lì a tu? No. Alle gallerie? Ci è vero, alle gallerie. Alle gallerie? Ci è un bravo. Là c'è qualcosa che non mi ha? Cele mi ha a risolata. Ci sono giù, alcuni piccoli. Ci sono giù le e, non c'èpatra, ci sono giù. E' un giù? E' un giù che passano da unasa. E' un giù. E' un giù. ehi lì, al colino, come andiamo? eh, fatica è una macchina eh signore Grazie a tutti.